allora ragazzi stiamo preparando il pranzo oddio più che stiamo io non sto facendo nulla c'è il nostro chef Morgan che sta qui aspettate che vi faccio vedere allora qui Morgan sta facendo riso al cocco si riso al cocco allora questo che vedete qui dentro esatto questo è il cocco ed è stato fatto la cosa figa che volevo farvi vedere è che è stato come vedete è stato fatto con questo con questo arnese qua vedete qui davanti ci sono i dentini ok praticamente questo cocco viene messo qui e viene grattugiato tutto quanto così viene preso il cocco una figata pazzesca qui sopra si mette il piede giusto Morgan così e ci fa il appunto il riso al cocco lo mette qui dentro visto che sono le verdure ed esce fuori il riso al cocco spettacolare